Allora Emma, immagino molto affollato questa sera il numero di telefono di Radio 2, vero? È caldo, è caldo. Allora, la preferenza di Radio 2 va per U, che ci ricorda anche un po' 11 di una famosissima serie televisiva. Visto che me lo chiedi sempre, la preferenza mia, non te ne frega niente, non è vero, però te la dico lo stesso, va a Nova. E poi è piaciuto molto anche il giovane che ha cantato Disperato, di cui mi sfugge però il nome. Esatto. Bene, grazie, salutiamo tutti gli ascoltatori naturalmente di Radio 2 e ci siamo adesso. La prima classifica è quella della giuria televisiva, la vediamo subito con i rispettivi, la somma dei voti. Eccola qui, vedete, quarto Nova, 26 voti avuti in totale, Cico 31, Avincola 36 e U37, molto vicini. In questo caso per la giuria televisiva, come dire, passano il turno e quindi si aggiungono agli altri ragazzi di Ama Sanremo e vanno a Sanremo il 17 di dicembre U e Avincola. Ma sapete ovviamente che c'è ancora la classifica della commissione e il televoto. Spesso il televoto ha rivoluzionato le classifiche. Adesso vediamo che cosa arriva. Quindi, oltre alla giuria televisiva, c'è anche la commissione. La somma delle due classifiche dà questo risultato. Vediamo. Al quarto posto, sommando le due classifiche, c'è Nova con Giovani Noi. Al terzo posto, Cico, figli di Milano. Al secondo posto, Avincola con Gol e al primo posto, ovviamente, Hu con Occhini a gara. Praticamente la classifica della commissione è uguale, identica alla classifica televisiva. E adesso aggiungiamo il televoto che vale per il 34%. E vediamo come e se cambia la classifica generale. Grazie, Ludovico. Allora, questa è la classifica finale. La somma delle tre componenti. Allora, al quarto posto, e quindi lo dobbiamo salutare, c'è Cico, quarto. Grazie, Cico, grazie. È in bocca al lupo, ovviamente. Adesso scopriamo chi c'è al primo posto e automaticamente si aggiunge agli altri ragazzi, agli altri artisti che hanno cantato e quindi lo incontreremo il 17 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. La somma delle tre classifiche dà il primo posto ad Avincola, Avincola primo. Lì, Avincola lì, incredulo, ma è così. Primo classificato, è tutto vero, è tutto vero. Adesso, avvicinatevi leggermente, ok. U è nova, Avincola ha fatto gol, brava Beatrice. Avincola. Chi si aggiunge ovviamente ad Avincola questa sera è chi invece ci lascia definitivamente. Al secondo posto nella classifica finale, quindi va a Sanremo. U! Seconda classificata! Da questa parte U, e grazie Terzo Nova, grazie Nova, in bocca al lupo per tutto. Eccoci, Avincola, U si aggiungono e quindi vanno a Sanremo il 17 dicembre per la finalissima. Grazie a Radio 2, grazie.